Buonasera amici e amiche di Nova News 24. Come è accaduto l'anno scorso per Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero, che poi ha vinto l'edizione, anche quest'anno potrebbero esserci ex partecipanti del viaggio dei sentimenti di Canale 5 Verso Là, nuova casa del reality che da settembre cambierà per la prima volta nella storia del programma, trasferendosi da Cinecittà a Lumina Studios, che si trovano nel parco di Veio in una zona di Roma Nord. Secondo quanto ha riferito l'esperto di gossip, Amedeo Venza, sarebbero stati già contattati Raul Dumitras e Martina de Ioannon, ovvero la coppia romana di Tempation Island che ha deciso di lasciarsi durante il falò di confronto finale. I due ragazzi sono stati oggetto di molti rumors e interesse. Raul ha conquistato il cuore di tanti telespettatori, Martina è stata molto criticata ma tutti e due hanno creato un grande curiosità anche sul web, con un aumento considerevole di follower per entrambi. Oltre all'ex coppia romana, ci sono altri e numerosi nomi piuttosto noti che sembrano essere stati contattati per la nuova edizione del Grande Fratello. Cristiano Jovino, Garance Autie, Jonas Berami, Cristina Plevani, Vera Gemma, Viola Valentino, Nadia Rinaldi, Federico Chimirri, Giulia Cavaglià, Sara Croce, Margherita Zanatta, Manuel Maura, Francesca De Andrè. Questi sarebbero i VIP ai quali si aggiungerebbero volti non conosciuti i cui cast sono già iniziati facendo tappa da tutte le parti. D'Italia. Se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24. Grazie.